Ieri è stata rilasciata la SBC Hero su FC24, ma ne vale la pena davvero andarla a sbloccare? Vediamolo insieme. C'è raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri, dopo una mattinata nella quale si era generato un po' di panico a causa di alcune notizie di leakers che dicevano che la sfida che tanto stavamo aspettando in realtà sarebbe stata ritardata di qualche giorno, in realtà poi alle 19 la sfida è stata rilasciata, per cui è finalmente disponibile l'Iro massimo 87. Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo innanzitutto a valutarne il rapporto qualità-prezzo in base a quello che è il prezzo medio di tutte le carte che possiamo trovare, perché essendo una sfida cappata, potendo trovare tutti gli Iro con overall pari o inferiore ad 87, comunque abbiamo un fascio ridotto di giocatori disponibili. E comunque poi ci andiamo a valutare anche effettivamente, al netto di quelle che sono le carte che possono uscire, quali sono i giocatori che possono dare una mano a quelle che sono le nostre squadre. Andiamo subito a vedere che questa sfida richiede in realtà una sola rosa, con valutazione 86, a dispetto di quelle che erano state un po' le notizie che erano circolate in rete, che dicevano due rose, massimo 2,50. In realtà ragazzi è una sfida molto ma molto economica, perché al netto se andiamo a vedere su Footbin quelle che sono le rose più economiche che sono state create per fare questa sfida, eh ragazzi miei ci vogliono 77.000 crediti, 80.000, quindi considerando quelli che sono tutti i fodder che abbiamo nel club, è una sfida che si riesce a fare praticamente a tarallucci e vino, per come la vedo io. Analizziamoci adesso insieme tutte le possibili carte che possono uscire, ma prima vediamo per valore medio. Che significa per valore medio? Se noi andiamo su Footbin, clicchiamo il database, ci ordiniamo gli euro per valutazione, vediamo che gli euro più bassi che possiamo pullare dall'ISBC sono overall 85, fino ad arrivare ovviamente ad un massimo di 87. La carta più bassa è Riken, che casualità è anche una delle più basse a livello di prezzo, perché costa 18.500 sul mercato, però se voi vi andate a fare la somma dei 37 prezzi, dei 37 euro che possiamo trovare all'interno della sfida, andremo ad ottenere più o meno un valore medio di circa 200.000 crediti, che è quasi tre volte il valore complessivo della sfida che noi andiamo a completare. Quindi a guardarla così sembrerebbe vantaggioso, molto vantaggioso il completamento. Però ovviamente sapete meglio di me che il drop rate è un po' variabile. Ogni volta che apriamo un pacchetto non è che c'è una legge scritta per la quale troviamo qualcosa di buono o meno, è un fattore assolutamente casuale. Quindi se voi la sbloccate perché il vostro amico ha trovato Yaya Toure e voi sperate di trovare pure voi Yaya Toure o Ramirez, e magari poi vi ritrovate tra le mani Clint Dempsey, lo dovete mettere in conto. Quindi quando andate a completare in generale queste sfide, c'è sempre quel fattore di rischio. Però sinceramente io per 80.000 crediti di sfida è un rischio che mi accollerei, anche perché ci sono una serie di carte molto interessanti, che rischiano di essere anche abbastanza definitive, se vogliamo, perché ce le porteremo a lungo tanto qualora le andiamo a sculare. E poi ci sono anche tutta una serie di giocatori gregari, che in questa prima fase iniziale del gioco, per me, nelle nostre squadre, ci trovano spazio e come. E adesso vi vado a selezionare quelli che secondo me sono i giocatori, che in una specie di tier list, se troviamo all'interno di questa sfida, non scarterei, ma almeno un try glielo vado a dare. Andiamo in ordine di overall e spizziamoceli per bene. Il primo giocatore che secondo me non è da buttare è il buon Damarcus Bisley, un hero che è stato introdotto quest'anno. In realtà, raga, questo qua è molto interessante per svariati motivi. Innanzitutto può fare l'esterno, ed è un 3 skill 4 piede debole di piede sinistro di 1,73m. Però, ovviamente, la cosa che a noi interessa è che può fare il terzino, dove a sinistra terzini forti ce ne sono, però terzini di MLS, che magari ti possono dare anche quel piccolo aiutino per linkare Messi, qualora vogliate utilizzare Messi, o magari in futuro usciranno delle carte speciali di Messi, perché è una cosa che io chiaramente mi aspetto che può succedere, che abbiamo comunque un giocatore che è molto veloce, è dotato di buoni passaggi, è dotato di ottime stats di dribbling, pecca leggermente i stats difensivi, però più che altro per la precisione di testa, che non ci importa più di tanto, ed è vero sì, l'intercettazione, pecca anche leggermente in forza e aggressività, però ha un 90 di stamina. Quindi se voi questo qui me lo andate ad utilizzare come terzino a tutta fascia, magari sbloccato, e ve lo ritrovate come risorsa, magari quando andate a fare un'azione offensiva, quindi per un costo poi sul mercato di 98.000 crediti, questo per me sarebbe una win se lo troviamo, o comunque non almeno una lose. Cosa che ovviamente non è il buon alowire run, parlando di lose, perché sto alowire run, raga, è sicuramente nell'Olimpo, no, di quelle che sono le carte che possono uscire, costa 470.000 crediti, l'anno scorso lo abbiamo imparato a conoscere, è stata la grande novità di FIFA 23, è un 4-4, è un esterno dotato di un grandissimo passo, è veloce, agile, è dotato di un ottimo tiro, e quest'anno gli ha messo anche due playstyle molto interessanti, ovvero il razzetto e il rapido. peccato che non è dotato di nessun playstyle per quanto riguarda le finalizzazioni, perché magari una trivela, un tiro a giro avrebbero dato una gran mano, però insomma, alowire run non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Così come un'altra carta che io non disdegnerei è Storobi Keen, innanzitutto il prezzo, 300.000 crediti, che quindi vi fanno già percepire, no, la bontà di questa carta, è un 4-4, un metro e 75, è un giocatore che anche l'anno scorso è stato tanto sottovalutato, presenta un playstyle dorato, quello del pallonetto, ha il tiro a giro argento, la trivela e il tecnico, quindi a livello di playstyle veramente ottimo. È rapido, è dotato di un grandissimo tiro, una discreta agilità, è dotato anche di 88 di stamina, quindi non è una carta che vi muore in mano dopo un tot di tempo, ma comunque la sua partita se la fa, e Robby Keen, essendo anche di Premier League, vi dà un bel boost a tutti i giocatori di Premier in rosa, e secondo me è una delle carte paradossalmente migliori, leggermente sotto ai top top. Un'altra carta sfiziosa è il Giloula, perché tutti quanti si aspetteranno Giloula, magari dimenticandosi l'overo, ma in realtà è Ludovic Juli, e qualcuno se lo ricorderà in maglia Roma, 148.000 credit, quindi anche lui andiamo sopra a livello di valore rispetto a quella che è la sfida. È un 4-4 piccolino, dotato del playstyle dorato della rovesciata, e questo di rovesciata ne faceva, ricordo, un gol, se non ero contro il Bidjan, forse, quando ero alla Roma in mezza rovesciata. Tiro a giro, passaggio tecnico, giocate di classe, quick step, è infaticabile, quindi bene bene anche il playstyle, ce ne ha tantissimi, è rapido, ha un discreto tiro, un ottimo passaggio corto, molto agile, un piccolo folletto, c'ha la stamina ottima, 85, unita all'infaticabile, questo qua da mettere in fascia è molto interessante, e inoltre anche di Ligand, quindi può dare un piccolo boost di intesa, che ne so, ai vari Dembélé, eccetera, poi anche francese, quindi perfetto. Così come un'altra carta che, magari a livello di prezzo, ci andiamo sotto di poco, ma che non butterei è sto Freddy Luenberg, che ogni anno, secondo me, è distrattato, perché può giocare sia a sinistra che a destra, quindi grande jolly, è un 4-4, 1,75 m, playstyle ha il pallonetto, la trivela, il filtrante alto, il filtrante basso, il rapido, e vi dicevo appunto, la possibilità di calciare con il tiro d'esterno alla quaresma, è un giocatore rapido, con una buona finalizzazione, pecca leggermente in potenza tiro, bene i passaggi, bene l'agilità, bene la stamina, questo, come jolly, o anche banalmente come super sub, perché non utilizzarlo, non presenta queste grandi criticità. Così come un'altra carta interessante, è Stolendon Donovan, sempre per i motivi di Disney, ovvero che ci può dare una mano a linkare i giocatori di MLS, ovvero Messi, però anche lui raga, è un 4-4, 1,73 m, playstyle, cioè rapido e la trivela, è veloce, bene bene i tiri, ottimo il passaggio corto, è agile, anche se poteva essere leggermente meglio in termini di equilibrio e agilità pura, c'ha 85 di stamina, anche lui se non lo giochiamo da titolare, magari spazio da super sub lo può trovare come. Un'altra carta che è strasottovalutata raga, è questa di mosto voi, perché è vero che a livello di prezzo andiamo sotto, ma questo patisce, se non erro il fatto di essere ovviamente russo, e il fatto di non aiutare troppo a livello di nazionalità, però è comunque della liga, quindi a livello di campionato lui la mano la dà, e ricordatevi che i giro giocano sempre a 3 d'intesa, quindi non è che li dobbiamo linkare chissà che, ed è un giocatore che ha 4 skill e 5 piedi debole, quindi stracompleto, una sorta di De Bruyne, è un metro e 77, quindi manco basso, è discretamente veloce, c'ha un ottimo tiro, un grandissimo passaggio, non è neanche un tronco, perché si muove discretamente, stats difensive non eccellono, però c'ha una discreta aggressività, una discreta stamina, questo se noi lo giochiamo in un 4-3-2-1 magari, come terzo di centrocampo, o anche in un rombetto, è veramente una mina, un mai onesto pin. Così come è simpatico, sempre per il centrocampo, c'è Stoccoit 87.000, quindi andiamo in guadagno rispetto alla sfida, è un 3-3, un metro e 83, che comunque in mezzo al campo lo sentite, dotato di playstyle anche abbastanza simpatici, c'ha l'L2, l'autoblock, l'infaticabile, il passaggio, e il colpo di testa potente, è un giocatore rapido, dotato di un gran tiro, di ottimi passaggi, questa agilità totalmente penalizzata dal 71 di equilibrio, c'ha anche un 82 di precisione di testa difensiva, e un 75 di mentalità, che male non fanno, 89 stamina, 83 aggressività, che non è da buttare. Così come ovviamente non è da buttare Capdeviglia, che l'anno scorso è stato uno dei terzini migliori di tutta la stagione, 170.000 credit, quindi andiamo di tanto in guadagno, insomma lo conosciamo molto bene, quest'anno a livello di playstyle, c'è il razzetto e l'infaticabile, che avessero messo qualcosina in termini difensivi, avrebbero fatto veramente un mostro, ancora più dell'anno scorso. Govoo, 367.000, andiamo in guadagno, anche qua, 4 skill, peccato per il treppiede debole, per un giocatore che abbiamo conosciuto l'anno scorso, c'ha il powershot dorato, il rapido e il razzetto, quindi playstyle veramente bene bene. È veloce, rapido, tira forte, dribbling bene, stamina leggermente bassina con quell'80, però anche Govoo, essendo francese di Ligan, giocatore di tutto rispetto. Così pure sto dude, raga, l'anno scorso è stato un portiere tanto bistrattato, però io l'ho provato a suo tempo, e mi è strapiaciuto. Quindi per 60.000 crediti è vero che andiamo sotto, però comunque è di Premier League, è una mano con le intese, non fa mai male. Un altro giocatore invece, rivelazione, è Sto King, perché costa 218.000, quindi massive guadagno. Però c'è il procione, tanta roba il buon King, raga, se ve lo ritrovate tra le mani, usatolo, questa è una specie di varan, e in più c'ha l'L2, e l'autoblock dorato, quindi è un difensore stra 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 completo, veramente forte. È un metro e 88, quindi anche imponente. Questo secondo me sarà la rivelazione di questa sfida, Iroh, segnatevelo. Ramirez, è il sogno proibito di tutti, raga, è probabilmente insieme a Yaya Tourette, e a Loa Iran, il giocatore migliore da trovare. Costa un milione, 4-3, playstyle della Madonna, c'ha l'intercetto, la scivolata, l'infaticabile, c'ha persino il pallonetto, lui di pallonetti ne faceva, così come di tiri a giro, è velocissimo, ottimi passaggi, agile, dotato anche di statistiche difensive incredibili, 87 di aggressività, 92 di stamina, magari a trovare il buon Ramirez. Così come magari a trovare Park Ji-sung, ve lo ricordate, pure lui, grande jolly dell'annata passata, praticamente, se l'uscita di bridare in un centrocampo a tre, vi ritrovate un centrocampista straduttile, con l'infaticabile dorato, quindi stile Bellingham, passaggio, tiki-taka, intercetto, è giocatore sotto pressione, quindi quando lo vanno a pressare, non patisce, e controlla comunque ottimamente il pallone, e poi costa 190.000 crediti, quindi un guadagno anche economico. Sbo, la REC, peccato il 3-3, anche quest'anno, però questo pure è un altro giocatore che l'anno scorso abbiamo imparato a conoscere, costa 2-70, quindi guadagniamo, veloce, gran tiro, dribbling, peccato il passaggio che non è granché, e peccato il fatto che abbia il presspruve indorato, che insomma per un attaccante non è il massimo, però c'ha comunque anche un razzetto argento. Questo per una Bundesliga, a livello di più 2, magari non lo so, se avete un Musiala buttato lì a 1-2 d'intesa, un Davis in panchina, questo potrebbe dare una mano, non è da buttare. Così come molto caruccio, è sto John Arnerise, anche qua un'altra carta ex Roma, nonostante sia della Premier League, perché è stato un eroe del Liverpool, 3 di skill e 2 di piede debole, 1-88, peccato il 3 di skill e il 2 di piede debole, perché io questo lo vedo più in mezzo al campo, che da terzino. Da terzino lo potete chiaramente utilizzare, però addirittura anche lui, centrocampista, magari non centrocampo a tre, perfetto. C'ha pure il powershot dorato, ovviamente le punizioni, la rimessa lunga, l'infaticabile, poi le statistiche raga. Grandissima potenza tiro, veloce, bene i passaggi, pecca leggermente in agilità, infatti io questo l'ho anche testato in game, non è proprio il massimo da controllare, ottime stats difensive, 94 stamina, 84 aggressività, 85 forza, tanta roba il buon rise. Così come non è niente male, anche gioco allo, 4-4, 1-76, un bel esterno, che c'ha pure un playstyle plus, il tecnico, c'ha giocate di classe, tocco di prima, la trivela, il passaggio incisivo, questo è un altro giocatore, che io andrei assolutamente ad utilizzare, anche perché gli potete far fare, esterno, destro, sinistro, e pure il C.O.C., quindi lo mettete, lo mettete, vi da una mano pure con le ibride. Poraccio e Rui Costa, raga, da Icona me l'hanno passata eroe, però, della serie A, questo non è male. È vero che andiamo sotto a livello di prezzo, però è comunque un 4-4, 1-80, pecca un po' per il workrate, che è normale, è normale, però è un centrocampista senza infamia e senza lode, secondo me, se lo mettete, si può anche dare un try. Per rimanere in serie A, invece, peccato solamente per l'altezza, perché il nostro cordoba, anche quest'anno, è veramente una bella carta. C'ha il playstyle dorato del colpo di testa, quindi quando deve saltare prende le ali, anche grazie al suo 94 di elevazione, c'ha anche il colpo di testa offensivo e l'L2 argentato. Ci avessi avuto magari un procione o un blocco avrei gradito, però comunque cordoba, che gli devi dire. Così come, raga, non commento a Yaya Touret, è la carta migliore che si può trovare, peccato che non abbia playstyle plus, però ce ne ha tanti di argento che non sono male, il finesse, il power shot, il passaggio incisivo, il forte, le giocate di classe, la trivela, il sotto pressione, veramente, veramente una bella carta. Il solito Yaya Touret, che anche quest'anno è il sogno proibito delle sfide Ico. Un altro sogno proibito in realtà è sto Marchisio, perché è stra-completo, è 4-4, alto, alto di work rate, veloce, passaggi, difende, 88 di stamina, playstyle, c'ha l'intercetto, l'anticipo, anche lui il passaggio lungo, le giocate di classe, le giocate sotto pressione, Marchisio, penso, top 3-4, insieme ad Alloway Run, si contendono un po' il podio di questa sfida. Rimaniamo in Serie A, un altro giocatore che ha fatto le fortune della Roma, Nakata, che è stato sempre un po' meme, però ragazzi, Nakata in realtà è un 4-4, pecca un po' in work rate, che è normale, normale, però lo potete mettere a centrocampo, magari anche in un centrocampo a 3, in un rombo, o centrocampista con uno più difensivo a fianco. È rapido, c'ha dei bei passaggi, un discreto tiro, è agile, ma che volete di più? Secondo me, anche lui si può provare. Sempre in Serie A c'è sto Brolin, che abbiamo scoperto l'anno scorso, peccato il piede debole, ma è comunque un 4-3 molto veloce, con un bel tiro, c'ha il tecnico argentato come playstyle migliore, andiamo sopra di per 3 quasi, col costo della sfida, Brolin, ce lo prendiamo. Invece un'altra carta che hanno aggiunto quest'anno, che anche non è male, è Steve McManaman, 4-4. Questo qui vi può fare, l'esterno destro, l'esterno sinistro, il COC e l'ala destra, quindi anche lui molto versatile. È inglese di Premier, quindi con le intese pure vi busta parecchio. Ripeto, rapido, buon tiro, discreto passaggio, agile, 91 di stamina, peccato il 70 di equilibrio, però anche McManaman, onestamente, io se lo trovo, non mi dispiace. Ragazzi miei, per questo video è tutto, fatemi sapere se avete completato la sfida, e soprattutto chi avete trovato e siete d'accordo con queste mie valutazioni o meno, io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta che augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi. Ciao.